allora ciao a tutti i miei discepoli oggi sono andato a fare un po di spesa quindi nei prossimi video vi mostrerò un po di materiali che ho preso per me ovviamente qualcuno lo darò via però qualcuno l'ho preso proprio per me ok perché mi piacevano iniziamo con questo olivastro pianta che sono da video sicuramente non si apprezzerà però la faccio vedere 360 gradi spiego perché l'ho presa bella perché il materiale veramente diverso dal solito è super dinamico viene oltre tutto verso di qua quindi poi qua c'è l'apice sarà un po da riportare ve lo faccio vedere perché è una bomba esagerata ok tutto da riprendere da sistemare perché come vedete ha sparato la grande quest'anno pianta sta molto bene quindi sono contento però ovviamente c'è da fare un po di restyling perché come tutte le cose che vengono abbandonate lì c'è bisogno del dio del bonsai per la ripresa per la ricostruzione costruzione ha già tutti i primari è già bella avanti diciamo la verità c'è soltanto da andare a spostare qualche ramo un pochettino perché se no c'è questo blocco così qua bisogna fare dei livelli perché se no sembra sembra un pezzo a chi viene di qua poi c'è il palloncino andiamo a vedere olivastro quindi è una pianta che prossimo anno la farò esplodere in una maniera una bomba esagerata ho già tutti i rami ok ecco da qui già si vede più il potenziale ho già questo ramo qua questo qua di profondità cazzo di cui ne ho veramente tanti è una gran scelta tagliamo già qualcosina perché tanto è inutile pianta sta benissimo corteccia da tutte le parti super cortecione legna secca che esce che gli da un sacco di carattere il cellulare ok butti nuovi da tutte le parti quindi prossimo anno come fare anche tanta roba qui e quindi lascia spazio veramente un sacco di immaginazione cosa buona oddio c'è anche un super shari a da qui già si vede un po meglio il potenziale c'è un gran shari qua sopra bellissimo secondo me che corre su tutta la pianta gli fa da schiena e pesa un pochettino butti nuovi dappertutto quindi sicuramente qua ci saranno più possibilità ok c'è da fare una potatura per riprendere un pochettino il materiale per carità non è che sia stato fatto un brutto lavoro qua sicuramente ci ha messo in mano una persona che sa il fatto suo prima di me ok faccio vedere anche così c'ho questa e poi come olivastro ne un altro che praticamente non è la copia ma il fratello di questo sempre così però pochettino più piccolo più contenuto quindi questo sicuramente lo dico lo dico una volta lo ridico se avete i soldi se volete una pianta con un piede dalla madonna ok perché qui siamo due spanne della mia qui sono 35 qua non so è una non so se da video si vede però è una bestia cioè ok a bestia ragazzi è in più super dinamico super movimento ritorno dietro con l'apice quindi se volete una pianta seria ragazzi lì magari non c'è capito un cazzo perché questo blocco di verde però posso garantirvi che una volta fatto un po prossimo anno di rifinitura ok tipo ad esempio storamo va un pochettino girato così questi stanno un po sopra ok anche questo sopra questo qui abbiamo già tutto il primo ramo che è bello che torna anche un po indietro ramo di semi profondità qui sopra apice ok è da riportare un pochettino a definizione però qui ragazzi tutte le carte in regola una bomba della madonna ok la faccio rivedere mamma mia quanto cazzo pesa guardate che roba poi ovviamente se qualcuno può piacere può cambiare inclinazione nessuno vieta nulla ok si può anche tirare sulla pianta però bisogna far scendere un po i rami ok però cosa farò in questo caso qua con questa pianta qua io personalmente la lascerei così tutta la vita perché mi piace il fatto che va così che poi esce di qua e poi torna su mi piace veramente cioè io l'ho presa perché mi piace così ok quindi non farei chissà quale modifica andare soltanto a sistemarla a sistemarla per portarla poi per riportarla poi alla sua forma che sicuramente sicuramente anzi adesso con una potatina già si andrà a ripristinare una bella fetta qui è lasciata andare però secondo me è uno di quei materiali che c'ha un gran potenziale e soprattutto non fa parte di quelle piante che sono tutte uguali che fanno tutte cagare uguali ok questo almeno c'ha il suo che ha veramente il suo che ha detto questo mamma mia cosa farà adesso con questa pianta ovviamente la porto avanti la concimo a bomba questo inverno ci farò poco però prossimo anno ovviamente se mi rimane poi ve lo dico se questa qui la volete scrivetemi subito perché chi ha occhio ha già visto chi ha occhio ragazzi ha già visto se vi interessa mi scrivete subito così la portata a casa però tutto st'inverno secondo me va concimata bomba va tenuta fuori tranquillamente senza fare sere fredde cazzate vari perché non serve a niente anzi la mandiamo in tilt perché dopo non sente freddo magari pensa che sia ancora primavera mavera robe strane però la cosa buona di questo materiale qui che c'ha delle fogliorine che sono come il mio mignolo ok quindi come genetica per quelli che dicono per fare le foglie piccole della pianta bisogna dare poca acqua bisogna bisogna comprare una pianta che ha delle foglie piccole se volete una pianta con le foglie piccole così avete meno pugnette ok avete un materiale che da solo si va a perfezionare tutto no qui semplicemente c'è da sistemare un pochettino i rami ok per il resto è una bomba della madonna c'è un tronco della madonna c'è un sacco di rami potete fare quel cazzo che vi pare qui e quindi quando ha ripreso un po di definizione due filetti e viene fuori una bomba della madonna ok detto questo un saluto a tutti c'è il video corso gratis ok questo mese approfittatene perché fra due giorni non c'è più quindi se dovete fare un ordine sul sito fatelo adesso perché se no c'ha una e in più c'è anche l'offerta masterclass 197 euro e vi do il mondo proprio il mondo e avete anche le dirette con me così potete chiedere consigli direttamente a me e ai miei discepoli quelli migliori ok detto questo un saluto a tutti continuo a tagliare un pochettino così nel prossimo video vi faccio vedere magari che già ancora più definita ok ciao a tutti fatti bravi ci vediamo al prossimo video così vi presento anche altre piante ok ciao a tutti 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 ciao a tutti